gentili telespettatori buona giornata crisi di governo adesso si passa al programma ci sono dei punti che dividono le quattro forze di maggioranza pd 5 stelle italia viva e leo si anche italia viva perché italia viva rientra nella maggioranza quindi oggi un maxi tavolo tra i partiti di maggioranza beh la posizione di renzi sul mess non è più quella di un mess o niente vediamo che cosa bolle in pentola beh diciamo che il contratto di governo lo avevano sottoscritto lega e movimento 5 stelle veniva definito un programma ed era firmato il secondo da pd e movimento 5 stelle a garantire l'attuazione del programma c'era giuseppe conte sia del contratto tra nel conte 1 e quello che dopo veniva chiamato programma nel conte 2 ma il programma del conte 2 è stato abbandonato non se ne è parlato più vito crimi lo chiama cronoprogramma per imitare quello che diceva conte no il cronoprogramma sono termini che si utilizzano all'università quando si fanno le tesi alla fine c'è o all'inizio il cronoprogramma dei delle attività zingaretti nicola lo chiama il contratto di legislatura chi lo chiama il contratto di fine legislatura matteo renzi parla di un documento scritto beh ma come chi sta facendo questo documento chi lo ha preparato fico lo ha preparato conte l'hanno preparato i partiti chi ha preparato chi sta preparando questo documento che dovrebbero ne dovrebbero parlare nella nella nelle varie nel secondo giro di consultazioni c'è il rischio che italia viva arriva e chiede il programma e gli mandano gli danno un foglietto con dei titoli non so sette otto titoli questo è il programma insomma non avrebbe poi tutti i torti a mandare tutti a quel paese naturalmente bisogna capire se a renzi interessa il programma se è un mezzo per avere dei ministeri per cacciare conte per raggranellare voti per dimostrare vedere agli italiani che lui è un responsabile che tutti gli altri non capiscono niente mentre lui come dice io parlo di politica con la p maiuscolo però nonostante lui si sforzi di dimostrare agli italiani che lui lavora per il bene dell'italia il suo partito è al 2 per cento c'è qualcosa che non torna o gli italiani non hanno capito renzi o gli italiani hanno capito perfettamente come renzi io direi sulla seconda ebbe il leader di italia viva appare più tiepito dice la partita ormai si gioca su un governo istituzionale guidato da draghi con la possibilità di allargare la maggioranza a forza italia o su un conte terzo con radicali cambiamenti di ministri e di programma lui confida questo ai suoi però lui punta ormai ha capito che per i cinque stelle o conte o nient'altro comportamento un po infantile quello dei cinque stelle un po sempliciotto conte o nessuno un po insomma è un po un bambinesco o conte o nessuno ma che vuol dire stiamo parlando di governo della compagnia di amici che si ritrova il sabato sera ma però quello che punta renzi perché ha capito che questi non mollano con conte sarà quello di dire vedrete che domani magari mi sbaglio io sono un opinionista non è che sono lì vedrete che renzi dirà questo questo contratto fa ridere questo non è questo non è un programma questa è una pagliacciata quindi noi lasciamo perdere andiamo al governo istituzionale con una persona con un peso maggiore quindi probabilmente domani non lo so è la mia opinione probabilmente domani deriderà il programma dicendo chi l'ha fatto renzi fico comunque non va bene qui vuol dire che dietro non c'è un presidente del consiglio un po è che sa quello che fa quindi lasciamo perdere conte così non va bene mi dispiace o mettete un altro o andiamo al governo istituzionale io credo che succederà questo vedremo magari magari mi sbaglio infatti l'ala dura di italia viva dice potremmo anche continuare a dire di no infatti è quello che succederà e domani lunedì entro martedì fico deve andare da mattarella per forza bisogna vedere domani fico con che razza di programma si presenta di solito questi programmi vengono su messi per mettere insieme forze che non non sono compatibili cinque stelle lega cinque stelle pd renzi questi programmi che cosa sono quello che ha presentato conte a mattarella per far partire il conte 2 che cosa ha fatto ha preso i 26 punti del momento 5 stelle ha preso i sei punti che il pd ha fatto anche fatica a fare no vi ricordate che di maio diceva zingaretti dammi il tuo programma e quello diceva poi non c'era nessun programma no ma programma di volta in volta ecco zingaretti non aveva nessun programma mentre di maio aveva un programma sovra alimentato chiamiamolo così no infatti grillo gli diceva cosa sono quelli punti del supermercato 26 punti dice ma ne facciamo pochi ma bene 26 punti è come scrivere tutto quello che ti viene in mente alla fine volere tutto vuol dire che poi non vuoi niente no e quindi già quel programma che cosa aveva fatto conte li aveva messi in ordine alfabetico e aveva presentato a mattarella ecco il programma programma non condiviso non si erano neanche parlati zingaretti di maio avevano presentato due programmi quello li aveva messi in ordine alfabetico li ha stampati su un foglio questo è programma di governo ecco insomma ma questa volta dicono è diverso perché renzi nel tentativo di non rendere il conte terzo una soluzione inevitabile di questa crisi ha imposto che prima si faccia il programma e poi si decide il nome perché perché lui criticherà il programma e dirà che non va bene quindi conte non va bene questa è la vita dirà vedremo domani che cosa succederà saranno proprio sarà proprio italia viva che farà la differenza se non lo so in questo programma ci saranno i ponti le grandi opere la tav il mess la scuola i vaccini tutto in un programma che vedremo domani sarà tutto un programma vedere il programma di domani il recovery poi il recovery plan come avranno fatto a cambiarlo in 24 ore figo figo e il demotivato conte che sta aspettando la sentenza io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata e siamo anche in facebook e nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete arrivederci a tutti